Come realizzare un adeguato sviluppo economico e un conseguente incremento occupazionale, vuoi in generale per il territorio pugliese, vuoi in particolare per quello di Taranto. Ne parliamo con il dottor Luigi Laterza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente della coalizione di centrodestra, Raffaele Fitto. Io credo molto nell'incentivare quello che è il settore agricolo e quello che è il settore turistico per poter creare una valida alternativa alla grande industria che pure è importantissima ma che non può essere sicuramente l'unica possibilità di lavoro per la nostra provincia. Per far sì che possa essere incentivato sia il settore agricolo sia il settore turistico dobbiamo assolutamente rivoluzionare ciò che è l'organizzazione regionale attuale con i risultati disastrosi che ci sono stati. È troppo facile, è come sparare sulla croce rossa perché veramente in agricoltura sono stati compiuti dei disastri. Il PSR, i fondi che si sono persi, la mancanza proprio di un'organizzazione territoriale con i dipendenti negli uffici territoriali che sono pochissimi e male organizzati, l'incapacità di avere una visione per il futuro. Vedi per esempio la mancanza nell'agroalimentare di cooperative, della creazione di cooperative che possano creare un prodotto DOP del nostro territorio. Mi riferisco per esempio all'uva da tavola, al comparto della zona di Grottaglie. Nel turismo poi la Regione Puglia non solo non ha avuto le idee chiare ma non ha creato quelle che sono le infrastrutture non solo viarie o mi riferisco anche all'aeroporto di Grottaglie che in questi cinque anni non hanno visto alcun miglioramento. Anzi, ma mi riferisco anche a una idea da un punto di vista urbanistico. Noi abbiamo con le leggi regionali attuali, abbiamo tarpato le ali a qualsiasi imprenditore che voglia intraprendere nel campo turistico anche nel pieno rispetto dell'ambiente così come noi vogliamo del resto.